È stato molto speciale quando sono venuta qua la prima volta, era come vivere un film e vorrei ritrovare anche adesso un po' questa sensazione, chiaramente non essendo la prima volta è comunque diverso dalla prima, però forse è più bello, forse è più bello perché sono tornata un po' a casa. Grazie.